Simo, chi è il tuo migliore amico nel beach soccer? Ma sicuramente Stefano Spada. E il Tau invece? Io ce ne ho tanti, però penso fin dall'inizio Simone Barinai. Chi pensi che sia l'avversario più difficile da affrontare? Ma io penso, io come difensore ho trovato difficoltà con Christian Torres. E te come giocatore? Ma per me è Stankovic, sicuramente. Chi è che non aggiungeresti mai su Facebook? Io non aggiungerei mai le altre ragazze, se no la mia ragazza si arrabbia. No, assolutamente, bisogna stare attenti alle richieste di amicizia perché siamo sotto controllo continuo. Ma secondo te, di noi, chi è quello che passa più tempo sotto la doccia davanti allo specchio? Senza un proprio dubbio penso Emanuele Zurlo. Anche secondo me. Senza dubbio, senza dubbio. Chi è che non puoi sentire cantare durante l'inno? Durante l'inno direi che non siamo molto intonati tutti. Io mi ci metto in prima fila perché sono stonatissimo. Te che mi dici? Io trovo difficoltà ad ascoltare Dario Ramacciotti quando canta l'inno perché non è facile stare lì dietro. Chi è che quando andiamo in discoteca balla più di tutti? Ma il numero uno in pista è Peppe Platania, non si discute. Ah, il più buono. Secondo te chi è il più buono della squadra? Puoi autonominarti perché io nomino te, te lo dico già. No, secondo me i ragazzi più belli della squadra è Emanuele Zurlo. Stanno, abbiamo fatto un grosso salto di qualità con lui. Invece quando stacchi dai ritiri e dalle tappe, che cosa ti mangi per arrivare a casa? La prima cosa che mi mangio è una bella pizza. Questo devo essere sincero, sì. E te? Assolutamente, non si sbaglia mai. Grazie a tutti.